Chiosti di San Pietro, fotografia europea 2019, mostra di Samuel Grattacap dal titolo 50-50. La mostra nasce da un viaggio che Samuel Grattacap compie a partire dal 2014 fino al 2016 in Libia e una delle sue prime città è Zuara, dove incontra un giovane di 26 anni che gli pone una domanda, una domanda chiave per questo progetto espositivo, sei qui per i migranti o per la guerra? E a questa domanda Grattacap cerca di dare una risposta attraverso immagini, testimonianze video e audio, incontrando persone, luoghi feriti dalla guerra o i migranti feriti invece da aspettative deluse. Sono Sormann, sono Garbares, Tripoli, Sirte, alcune delle città in cui compie questo viaggio fino al 2016. Esposto qui nei Chiosti di San Pietro fino al 9 giugno.